Ciao, ciao a tutti, bentrovati e bentornati o benvenuti sul canale della Ili. Questa volta il tempo che è passato dall'ultimo video è un pochino meno dall'ultima volta che ci siamo visti e devo dire che la situazione salute della mamma va molto bene, pian pianino, ci stiamo riprendendo, molto molto lentamente, molto molto lentamente, pensavo fosse una cosa un pochino più veloce e invece ci vuole del tempo, devo imparare ad avere pazienza, ma va bene così. Qui da parte a me ho sempre i miei due telefoni, il telefono fisso e il cellulare, quindi se lo sentirete suonare interromperò perché magari c'è qualche urgenza, spero di no, ma c'è qualcosa di cui hanno bisogno, lei e la zia, e per il resto va tutto bene. Io mi sto riprendendo molto lentamente, anch'io come la mamma. Penso che a livello emotivo per me, ci sto facendo i conti adesso, sia stata veramente una botta pazzesca e dovendo comunque poi affrontare la vita di tutti i giorni, che è il lavoro, che è la gestione della famiglia. Rieccomi, purtroppo mi sa che tutti i video saranno così perché io devo tenere il telefono che ho portato in mano, ma tutto bene, non è successo niente, dovevo solo aggiornarmi sul fatto che ho portato su una teglia di pasta al forno perché oggi arrivava a pranzo il mio cugino sacerdote che è il figlio della zia che è su con la mamma e che era piaciuta la pasta al forno, quindi dovevo essere aggiornata su questa cosa. Ma veniamo a noi. Volevo ringraziarvi ancora tutti perché davvero io mi sono sentita accudita, amata da tantissimi di voi, da tutti voi, sia con i vostri messaggi, sia con il mi piace sul video, le tante visualizzazioni, i messaggi privati di tantissime tantissime, ma veramente persone che hanno condiviso la loro storia con me e il bello di questo mondo social è proprio questo, che quando si sente un video che ci entra nel cuore ci si può permettere di confidarsi, di raccontare la nostra storia, certamente dal punto di vista di un messaggio privato, ci si può permettere di raccontare il proprio dolore, di capire, di raccontare come si è usciti da questa situazione e io questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Sui social ci sono davvero da tantissimi anni e non ho mai, mai, mai avuto un'esperienza negativa, mai. Con tante persone sono diventata amica anche a livello personale, non dico a livello fisico, ma a livello vero, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, le nostre famiglie sono conosciute, ma con tante persone c'è questa amicizia virtuale che è un'amicizia vera, quindi i social, se usati bene, fanno davvero tanto, soprattutto per le persone che magari sono sole e non hanno la possibilità di avere tanti amici intorno. Ecco, quindi io davvero vi ringrazio, vi ringrazio con tutto il mio cuore perché vi sento molto molto vicini, perché mi raccontate quello che è successo a voi che può essere simile alla mia esperienza o magari completamente diversa, ma il fatto che qualcuno abbia la voglia di confidarsi e di raccontarmi il proprio vissuto è per me davvero un grandissimo, un grandissimo dono. Detto questo, il video di oggi è sui libri che ho riletto, perché ci sono dei libri che sono abbastanza vecchi e che io quest'estate ho riletto, ma che sono capitati a fagiolo in questo periodo dove la maglia e il mio creare, la mia creatività è l'ancora di salvezza per questo momento un po' particolare della mia vita. Sono libri che io non ho acquistato, ecco ho preso in biblioteca, sapete il mio amore per i libri della biblioteca, mi piace vedere dei libri sgualciti, rovinati, che sono vecchi, che sono passati di mano in mano, che sono entrati in tante camere, in tante cucine, sfogliati da tante mani che magari sono anche diverse dalle mie, ma che hanno avuto l'occasione di poter vivere esperienze diverse. Allora, i primi libri che ho riletto, questi li avevo letti anni fa, ma mi hanno dato uno spunto diverso, mi hanno fatto fare pensieri diversi, soprattutto perché adesso io sto vivendo una situazione che non è identica a quella raccontata in questi tre romanzi, ma che comunque è una situazione di affaticamento, di dolore, di voglia di evadere, e in questi romanzi che io ho riletto per la seconda volta ho trovato tutto questo, e posso dirvi con certezza che l'aver voglia, o anche non l'aver voglia, ma il provare a buttarsi in un hobby creativo, che possa essere la maglia, l'uncinetto, il cucito, il ricamo, la lettura, qualsiasi cosa che possa creare gruppo, comunità, il farlo insieme, il raccontarsi delle cose, il perché siamo insieme a lavorare a maglia, i miei venerdì creativi con le mie amiche, sono un po' una piccola comunità, no? Tutto questo mi ha fatto capire che questo modo di affrontare il problema, cioè il buttarsi in un lavoro creativo che possa essere la maglia, l'uncinetto o il ricamo, ti fa sì evadere, ma ti dà anche la possibilità di raccontarti, di condividere esperienze di dolore, di affaticamento, di problematiche familiari, dandoti una visione diversa di quella che potrebbe essere la tua, non taglio niente ragazzi, di quella che potrebbe essere la tua, proprio perché magari la stessa situazione o comunque una situazione simile è stata vissuta da chi è lì con te e ti sta raccontando. Su questi tre libri non mi soffermerò molto, perché sono libri conosciutissimi, abbastanza vecchi, penso che alcuni forse non si trovino neanche più in libreria, ma li potete trovare nelle vostre biblioteche tranquillamente, ma che ci raccontano di come delle donne o degli uomini che si trovano insieme per fare qualcosa sia la nostra forza, sia un punto per poter ricominciare da lì e dire sì dai forse anche io ce la posso fare. Allora, i primi due libri sono di Kate Jacobs e sicuramente li conoscerete. Uno è Le sorprese del venerdì sera, rifaccio ma non taglio. Il primo è Le amiche del venerdì sera, che è proprio il primo libro in assoluto. Di questo libro doveva uscire un film che purtroppo non è mai uscito con la mitica Giulia Roberts, se lo guardo perché è scritto qua, purtroppo non è mai uscito, non so che problemi ci siano stati, ma sarebbe davvero bello che ci fosse un film basato su questi due libri. E l'altro è Le sorprese del venerdì sera, che è la continuazione. Allora, molto velocemente di cosa parliamo? Parliamo di amiche, o meglio, parliamo di un negozio di filati creato da Georgia Walker che dopo una storia d'amore rimane incinta, non sa come affrontare il futuro e quindi lavorando a maglia, è un'arte che lei sa fare molto bene, decide di aprire un negozio di filati. E da lì si susseguono amiche, alcune che entreranno in questo club del venerdì sera e poi ne usciranno, ma poi ci saranno delle amiche, un gruppo di amiche davvero amiche vere. Amiche vere che non vuol dire che la pensino come te, attenzione. Amiche vere che sono amiche che sanno dirti in tutta sincerità quello che pensano nel bene e nel male, che sanno condividere nel tempo le loro fatiche, i loro dolori, i loro difficoltà, ma proprio grazie a questo club delle amiche del venerdì sera troveranno la forza per cambiare vita, per rivoluzionare, per prendere delle decisioni importanti della loro vita, proprio grazie a questo filo di lana che le lega ogni venerdì sera. Ci saranno dei cambiamenti notevolissimi, ci sarà un divorzio per qualcuno, ci sarà la decisione di procreare un bambino da sola, ci sarà la decisione di ritornare allo studio e di diventare avvocato, ci sarà la decisione di prendere le redini della propria vita, di non farsi prendere dai problemi e di decidere, nonostante qualche difficoltà nel rapporto con il marito, di avere dei figli, tutte cose che secondo me nelle nostre vite ci sono. Ma cos'è il bello di questi due libri? Il primo purtroppo se lo conoscete già finirà male, finirà male perché ci sarà la morte di Giorgia, che però lascerà un'eredità molto importante, lascerà l'eredità di una figlia, dopo essersi ritrovata con il suo compagno e il padre della figlia, e da questa eredità nascerà poi il secondo libro. Da quello che ho capito sono comunque stati, è stato preso spunto da storie vere, da storie di donne che si sono ricostruite, si sono ritrovate, si sono reinventate, grazie a una piccola comunità di donne che lavora insieme a Maglia in questo caso, e che da lì è riuscita a ricostruirsi una vita, un futuro, una famiglia, proprio grazie alla condivisione di un filo di lana. Quindi io questi li ho letti anni fa, li ho riletti adesso, e devo dire che mi hanno dato molti spunti di riflessione, due romanzi davvero bellissimi, ovviamente il primo è eclatante, bello, ricco di molti spunti, il secondo è la continuazione, bello anche lui, meno bello a mio parere del primo, ma vale la pena leggerlo per capire che cosa succede a tutte le donne che abbiamo lasciato nel primo romanzo, per poi continuare nelle sorprese del venerdì sera. Quindi sicuramente consigliatissimo, cercatelo in biblioteca, perché non sono sicura che nelle librerie e online ci sia ancora, Le amiche del venerdì sera, di Kate Jacobs, e Le sorprese del venerdì sera. E comunque in tutti e due i romanzi, in tutti e tre i romanzi, della potente forza che ha il ritrovarsi insieme, il lavorare insieme, il fare qualcosa insieme, questa forza che ci aiuta a superare tutte le difficoltà. I problemi non vengono cancellati, questo glielo ho detto più di una volta, i problemi non vengono cancellati, le nostre storie non vengono stravolte, eliminate, cambiate, non c'è il principe azzurro alla fine che ci aspetta, o magari c'è anche il principe azzurro, ma trovate qui dentro la forza delle donne. In tutti i romanzi che io vi presenterò oggi, c'è la forza delle donne di ricostruire la propria vita, e di costruirsi un futuro migliore. Quindi, Kate Jacobs, i due romanzi che ha scritto. Questi due. Altro romanzo, molto 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 simile, è Il Club dei Ricordi Perduti, di Anna Hood. Qui, da quello che ho capito, si parla quasi di una storia vera, non so se l'autrice abbia vissuto un'esperienza come quella raccontata, si parla sempre di fili di lana, si parla sempre di un gruppo di amiche, che si ritrova, di amiche e di amici, che si ritrova in un negozio di filati a lavorare insieme a maglia. e il percorso, la strada, è sempre la stessa. Il fatto di lavorare insieme, il fatto di costruire qualcosa, ci dà la possibilità di confrontarci, di conoscerci, di raccontarci, e anche questo è bellissimo. Oserei dire che avendolo riletto dopo tanti anni, mi piace molto di più questo che Le Amiche del Venerdì Sera. Qui si parla di un dolore già avvenuto. la protagonista che è Mary Baxter perde una figlia in giovanissima età, non sa dove girarsi, abbandona il lavoro, lei è una giornalista, il suo capo la cerca, la ricerca, la invita a ritornare, ma lei non ce la fa, non ha le forze per fare questa cosa. Il suo matrimonio dopo la morte della bambina sta andando a rotoli, il marito cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto d'amore che c'è, ma lei fa una fatica bestiale, e il suggerimento di una madre che sembra sia sempre stata assente e disinteressata verso la figlia e che ha un ma Cody? Questo è Cody, scusate l'ho lasciato fuori, oh mamma, vado a riprenderlo. Che video disagiato. Comunque, dicevo, proprio grazie a un consiglio che a lei sembra quasi stupido, dove la mamma tramite una telefonata le dice, ma senti, cioè tu non riesci a risollevarti da questo lutto, da questo dolore, ma lavora a maglia, vedrai che qualcosa succederà. E così è stato. E così è stato, lei va in questo negozio, comincia a fare sciarpe, 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 perché lei non ha mai lavorato a maglia, non sa come si fa a lavorare a maglia, impara con degli errori grandissimi, dei buchi nelle sue sciarpe e poi comincia pian piano ad alzare l'asticella e quindi va ai berretti, poi fa le calze, poi fa i maglioni e tramite questo percorso di crescita che la porta a conoscere sempre meglio la padrona del negozio e le amiche e gli amici che con lei lavorano a maglia, capisce che non è la sola ad aver avuto un dolore e soprattutto che da quel dolore si può rinascere. Un libro davvero bellissimo, a me è piaciuto tantissimo, riletto, non avevo notato alcune cose nella prima lettura e devo dire che è un libro che ci fa fare veramente delle grandissime riflessioni su noi stessi, su come viviamo il dolore, su come ci può aiutare anche una piccola cosa che può essere un hobby, su come è indispensabile poter condividere il proprio dolore, le proprie preoccupazioni con degli amici e sulla capacità di non fermarsi al primo gradino al capire perché alcune persone ci dicono delle cose, lei scoprirà poi, non vi svelo di più, scoprirà che anche la mamma ha avuto un percorso come il suo, che la maglia l'aiuta tanto e capirà perché poi le ha dato questo consiglio. Il club dei ricordi perduti di Anna Hood, anche questo straconsigliato. Tutti i libri che parlano di rinascita delle donne, di come le donne siano forti, di come le donne siano capaci di crearsi un futuro anche da soli, mi sono resa conto che tantissimi romanzi parlano della rinascita e della forza delle donne, non so come mai io li abbia scelti in questo momento ma li ho scelti quest'estate e poi pian piano li ho riletti e ho letti e dovevo restituire le biblioteche sono in mega ritardo ma mi hanno perdonato. Gli ultimi due libri che vi voglio consigliare sono di Beth Morray Il bistro della speranza e anche qua parliamo di una donna che si chiama Delfin che ha una figlia Emily non è sposata è stato diciamo il frutto di un amore di gioventù che poi non si è portato avanti prigioniera di il ricordo di una mamma molto presente morta purtroppo in un incidente brutale che vive con il papà praticamente avvolto dal dolore della morte della moglie e lei non sa come fare ad affrontare il pagamento dell'affitto ad affrontare le spese della scuola della figlia ma si rende conto che qualcosa lei può ancora fare lei era una studentessa brillante purtroppo ha dovuto mollare la scuola prima del diploma per perché era rimasta incinta e poi si è sempre dovuta arrabattare con dei lavori che comunque in qualche modo l'aiutassero a pagare l'affitto e arrivare alla fine del mese con questa sua voglia di ritrovarsi di crescere di volersi diplomare e poi addirittura laureare c'è un miglioramento nella sua vita nei suoi rapporti magari anche trova l'amore ma soprattutto ritrova il rapporto con suo padre che pian piano esce da questa nebbia del dolore proprio grazie anche alla voglia del fin di riprovarci e quindi grazie a questo lavoro che trova al bistro della speranza ricomincia a studiare forma un complessino canoro dove lei canta reincontra i suoi insegnanti che sono gli stessi insegnanti che la figlia ha a scuola e capisce che è arrivato il momento di provarci di provarci di ricominciare di vedere quanto lei possa fare per poter cambiare la sua vita il suo sogno è quello di avere una casetta con un piccolo bovindo dove potersi affacciare vedere il giardino e non dico che ce la farà ma sicuramente avrà le possibilità in futuro di farcela Beth Morley il bistro della speranza davvero un bellissimo romanzo scoperto per caso scelto per questa bellissima teiera in copertina sapete che per me le copertine sono essenziali nella scelta del libro ma anche questo ve lo consiglio ultimo libro meraviglioso ma da Tracy Chevalier non si può assolutamente aspettarsi nulla che non sia meraviglioso io i suoi libri li ho letti quasi tutti e anche qui la ricamatrice di Winchester ma chissà come mai la Ellie sceglie questi titoli devo dire che tutti i romanzi che io ho letto di questa autrice sono un colpo al cuore perché fanno comunque dei riferimenti storici veri perché ci fanno conoscere delle realtà storiche realmente accadute e ci si può poi andare ad informare e anche questo romanzo è una piccola chicca di cosa parla parla di una donna perché non è più una ragazza Valérie di 38 anni alla fine della prima guerra mondiale che purtroppo perde l'amore della sua vita in guerra perde il fratello ha ancora un fratello in vita con una moglie e dei figli lei perché le donne di quel tempo che non erano sposati erano tra virgolette obbligate a stare a casa con la madre vedova e lei si ribella a questa situazione quindi vuole andare a vivere da sola in un paese vicino a dove abita e va proprio nel paese di Winchester nella cittadina di Winchester dove incontrerà delle amiche dove anche qua ci sarà un come dire un incontro inaspettato dove lei si innamorerà purtroppo di un uomo non libero e dovrà fare i conti con questa cosa soprattutto per il tempo di allora per le idee le convenzioni e tutto quello che è il mondo giudicante della gente per bene incontrerà delle amiche vere che però saranno ostacolate perché queste due amiche sono innamorate e se è uno scandalo ancora adesso perché comunque scusatemi ma ci sono persone che si permettono di giudicare ancora oggi di due persone uomini o donne che hanno una relazione e lei si ritrova a fare i conti con se stessa su un modo di pensare che è comunque abbastanza diverso da quello che la gente comune pensa di queste due amiche che si amano ma che lei proprio per quello che è la vita vissuta per quello che è il tempo fa all'inizio fatica ad accettare ma poi capisce che l'amore è amore e che comunque non deve essere lei a giudicare il fatto che lei abbia questo amore platonico con Arthur che poi comunque la porterà in una direzione che non vi svelo il fatto che arrivando nella cattedrale di Winchester in un momento così un po' di curiosità e di sconforto si ritrova a guardare i cuscini che i fedeli e i sacerdoti usano per inginocchiarsi vede questi cuscini finemente ricamati molto belli con dei ricami stupendi e decide pur non sapendo ricamare e pur non avendo mai avuto nulla a che fare con la manualità di iscriversi a questo gruppo di ricamo che è un gruppo molto tradizionale possono entrare solo le persone prescelte ma grazie ad un'amica lei riesce ad imparare a ricamare e a entrare in questo piccolo circolo che leggendo poi sui ringraziamenti è una cosa veramente esistita e che esiste ancora questa ricamatrice che si chiama adesso ve lo dico se lo trovo ne vado a prendere nei ringraziamenti Luisa Pesel o Pesel Luisa Pesel è una delle ricamatrici di Winchester questo gruppo dove lei comunque ha preso spunto si è incontrata è un gruppo che esiste ancora dove creano questi cuscini che dovrebbero resistere a tutte le intemperie dei secoli degli anni e dove la gente si può inginocchiare lei vuole lasciare la nostra Valérie ho detto Valérie e Violet va bene va bene così Violet vuole lasciare comunque un segno nei secoli nella vita e quindi decide che anche lei ricamerà un cuscino dove si potranno inginocchiare fedeli comuni e o dei sacerdoti dei cardinali e quant'altro è davvero un libro bellissimo perché a parte tutti i cenni storici che sono veri della cattedrale di Winchester di come sono nati tutti gli affreschi che sono stati che ci sono nella cattedrale di come viene anche vissuta la tradizione dei campanari di chi suona le campane in queste grandissime cattedrali dà anche uno scorcio molto bello molto romantico molto bucolico di questa Inghilterra che a me piace sempre tanto come tutti i romanzi di tre scevaliera io ve lo consiglio perché sono scritti in davvero in uno stile molto bello molto approfondito dove ci fa cogliere delle piccole chicche dove ci racconta di fatti effettivamente accaduti e anche di vita vissuta veramente in quell'epoca e di come anche in questo caso una donna pensate se è difficile adesso per una donna essere da sola con un figlio o comunque non avendo una figura maschile al suo fianco pensate alla fine della prima guerra mondiale quale sia la difficoltà con tutti poi i pregiudizi e il giudizio della gente ben pensante che è una cosa che io odio quindi se non l'avete mai letto io questo ve lo consiglio prima di tutto perché è un libro veramente veramente stupendo la recamatrice di winchester di tracy che va e dopo questo ultimo libro io vi saluto ora vado a preparare un dolcetto perché stasera avrò il gruppo famiglie e voglio preparare gli ossi dei morti è una ricetta tradizionale lombarda fatta fatta con dei biscotti sbriciolati l'uvetta i fichisecchi le mandorle il cacao un goccino di marsala e hanno la forma un po' di delle ossa vi lascio il link alla ricetta che avevo fatto nel 2008 pensate voi tantissimi anni fa sul mio primo blog di cucina blog spot se qualcuno la vuole rifare è una ricetta tradizionale del periodo dei morti la settimana prossima sarà sì è vero halloween ma non l'ho mai festeggiato non l'ho mai sentita come festa non ho nulla contro halloween ma non è nella mia tradizione e neanche in quelle della mia famiglia i miei figli non hanno mai fatto halloween e quindi io sono ancora vintage e radicata alla tradizione lombarda quindi nella settimana prossima nonostante le temperature sarà la settimana dei santi e dei morti delle festività dei santi e dei morti e quindi io oggi pomeriggio cucinerò i miei dolcetti magari vi metto una foto poi sui social vi ringrazio se siete arrivati fino a qua perché sono stata come sempre lunghissima ma visto che i video adesso li facciamo una volta ogni due settimane ve lo posso anche permettere io vi ringrazio vi abbraccio vi saluto penso di pubblicare questo video domani che è domenica e quindi vi auguro una buona domenica pomeriggio e un buon inizio settimana per chi farà il ponte fortunato soprattutto per chi va a scuola sicuramente Lucia sta a casa due giorni perché ci sarà il ponte di mercoledì e ci rivediamo e ci risentiamo al prossimo video spero di avervi dato qualche spunto di lettura e e nulla vi abbraccio tutti con davvero tantissimo tantissimo affetto e vi ringrazio tutti 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 indistintamente per le vostre parole per la vostra vicinanza per la vostra amicizia e per tutto quello che mi avete regalato in questo periodo io vi ringrazio e vi saluto ciao ciao